Per me camminare, camminare nella natura, camminare più giorni è fondamentale, non solo per entrare in contatto con la natura, ma entrare in contatto con me stessa, con la parte più vera, autentica, viva di me stessa. E per questo, per indurvi al camminare più giorni nella natura, vi suggerisco due libri. Il primo libro che vi suggerisco è di Emeric Fisset, L'ebrezza del camminare, piccolo manifesto in favore del viaggio a piedi. Emeric è un po' estremo, lui ha fatto tantissimi viaggi a piedi, non ho mai fatto delle esperienze di mesi, di cammino al livello di Emeric Fisset, ma per qualche giorno ho potuto sperimentare su di me che cosa significhi camminare con lo zaino, avere tutto appresso, essere in qualche modo autosufficienti. Un luogo attraversato diventerà un legame vissuto, dice Emeric. Andare al proprio passo, che è la cosa più naturale che uno possa fare, veramente ti rende totalmente partecipe di quello che ti capita intorno. Un vero cammino, non in un cammino di un giorno toccato e fuggi in montagna, questo no, così non si riesce a sperimentare questa sensazione. L'altro libro che vi suggerisco è sempre della stessa collana di Ediciclo, Piccola filosofia di viaggio. È il libro di Franco Michieli, si intitola La vocazione di perdersi, non ho qui con me perché l'ho letto anni fa. Ho conosciuto personalmente Franco Michieli ed è una bellissima introduzione alla sua filosofia. Anche lui ha camminato per periodi lunghissimi in posti del tutto sperduti e fondamentalmente insegna a perdersi, trovandosi però, tranquilli, è ancora vivo. Franco Michieli spiega in questo libro e in generale tutte le sue esperienze che fa, spiegano come poter entrare nella natura, studiarsi prima la morfologia del territorio, studiarsi la cartina e poi lasciare tutto a casa. Non lasciare solo la cartina a casa, ma lasciare anche il GPS, smartphone e qualunque altra forma di bussola, di orientamento. Solo così effettivamente riusciamo a ritrovare o a trovare il nostro vero istinto, l'istinto di orientarsi nel mondo naturale. Mi rendo conto che è una cosa che a molte persone può spaventare. Ogni tanto ho provato a perdermi, anch'io, nella natura ed effettivamente quando ci sono riuscita, per poi ritrovarmi ovviamente, è una sensazione bellissima. Si sente di potersi affidare a se stessi, al proprio istinto, ma è anche una forma di spiritualità, affidarsi a qualche entità che in qualche modo sembra guidarti. È una sensazione veramente stupenda che vi auguro a tutti di poter sperimentare.